salve a tutti e benvenuti su alle pezzi tv al forio tanto prima poi viene pure tutto su alle pezzi tv andiamo un'altra piccola canzoncina dal titolo la zona vado una due e tre è una zona rossa è una zona ragione è una zona gialla si fa di tutto pur di stare a galla speriamo serva a fermare questa brutta maledizione non si vede via d'uscita è una triste situazione certo non è facile chi la vuole cotta chi la vuole cruda qui si vede chi ha tributi e dignità rimasta mai perduta siamo un grande paese anche se ci piace complicarci la vita adesso basta uniti insieme incrociamo le dita per farla finalmente una volta per tutte finita zona rossa e zona arancione e zona gialla si fa di tutto pur di stare a galla speriamo serva a fermare questa brutta maledizione non si vede via d'uscita è una triste situazione però noi ci dobbiamo lavare di dosso questa maledizione non è all'epis tv all for io tanto prima o poi viene pure tu fuori ciò ma restate vero ma quando mai cavalloni giganti per tutti quanti con questo vi saluto e vi rimando alle prossime e come sempre all'epis tv all for io tanto prima o poi viene pure tu troppo le due di to sto non non ma